Attena un incontro con gli sfollati per fare il punto della situazione delle case acquistate dall'Ater. Con la delibera approvata dalla Giunta è stato ridefinito il percorso amministrativo che in tempi brevissimi, secondo l'ente, sfocerà nell'affidamento degli alloggi acquistati tramite fondi regionali. Alle prime 53 famiglie per un totale di 142 persone che ne hanno fatto richiesta. Si tratta degli sfollati che avevano partecipato al bando emesso a metà maggio dall'amministrazione cittadina in attuazione degli accordi con Ater e protezione civile per il trasferimento degli stessi con abitazioni inagibili classificate come in appartamenti recuperati sul mercato. Incontro con i 53 assegnatari del primo bando che noi vogliamo tutelare, lo abbiamo detto, un impegno assunto e mantenuto. Adesso Ater ha comunicato a fine gennaio il numero degli alloggi acquistati, 78 e non 147 come quelli inizialmente comunicati da protezione civile qualche mese fa e che poi ci hanno portato a fare il bando. Adesso ragioneremo sull'assegnazione di questi 78 tutelando i 53 assegnatari sulla base di un percorso di preferenze che poi ci porterà a chiudere questa prima fase e aprire la seconda con gli alloggi residui e con quelli che verranno ulteriormente acquistati che dovranno essere destinati prioritariamente alle famiglie che sono all'interno delle strutture ricettive con esito E. Chiaramente parliamo sempre di emergenze e non di ricostruzione purtroppo perché chiaramente l'obiettivo deve essere quello della ricostruzione delle case che è l'obiettivo che condividiamo con i nostri cittadini sfollati. La tempistica deve essere brevissima almeno per questi primi 53. Io spero di chiudere comunque entro la fine del mese questa assegnazione e comunicare poi ad Ater e protezione civile per gli attempimenti successivi l'abbinamento tra famiglie e abitazioni.